Oltre all'acqua 1,87 c'è stato anche il vento. Il vento ha fatto sì che l'acqua, l'onda, fosse più alta di 5, 6, 7 centimetri. Provare, si immaginare con venti di 110 km orari che tiravano qua in centro storico. C'è stato un ciclone. 8 dicembre 2019. Grazie ai Vigili del Fuoco, l'edicola di Walter Mutti riemerge dalla laguna dopo tre settimane trascorse sul fondale del canale della Giudecca. Oggi, quella che è stata tra i simboli della forza distruttrice dell'acqua alta del 12 novembre scorso, capace di spostare una struttura di quasi 15 quintali, è tornata al suo posto davanti alla chiesa dei Gesuati alle Zattere. Queste edicole sono state progettate appositamente per l'acqua alta, a tenuta stagna. Che significa tenuta stagna? Che l'acqua, dopo un certo livello, fa sì che l'edicola si alzi e venga portata via. Quando è stato fatto il lavoro di ripristino della pavimentazione? No, hanno voluto il riancoraggio. I risarcimenti? I risarcimenti. Allora, per quanto riguarda la lettera C, i danni fino a 20.000 euro, io personalmente sono stato risarcito. E adesso aspettiamo, fiduciosi, i danni oltre i 20.000 euro. In Cale della Mandola, vicino a Campo Sant'Angelo, c'è la libreria di Alberto Bertoni. Dopo l'acqua alta di un anno fa, ha pensato seriamente che l'attività di famiglia si fermasse con lui. Quanti libri aveva perso? Allora, ho perso circa 28.000 volumi. E come hai fatto a tirarsi solo? L'attività ha cominciato a lavorare e molte associazioni, persone mi hanno dato anche una mano regalando qualche volume e sono riuscito a riprendervi. Dopo il ripescaggio dell'edicola, un amico di Walter Mutti aveva promosso una sottoscrizione di fondi per restaurarla. Un'altra raccolta di denaro organizzata a Ceggia aveva destinato una parte del ricavato alla libreria di Alberto Bertoni, che a sua volta l'aveva girata ad un'altra libreria più in difficoltà della sua, così come lo scrittore veneziano Andrea Zanetti aveva donato parte dei ricavi dei suoi libri alle librerie della città. Ha ricevuto tutti i risarcimenti? Beh, diciamo, quelli del comune sono stati ricevuti tutti, poi anche grazie all'SAI ci hanno dato qualche cosa e tutto sommato devo dire che ce l'abbiamo fatta.